Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Oggi vi mostro la mia vecchia casa Dove c'è quella porta lì Lei Contiene la casa nuova Quindi questa non è proprio la vecchia casa E Il mio fratello aveva fatto una penitenza Mi ha messi Una lacca sui capelli Anche qua adesso non si toglie Quindi abbiamo Abbiamo qui Vi spiego In quella porta lì Contiene la casa Ovvero la cucina E la mia stanza Poi qua La stanza da pranzo Adesso ve la faccio vedere un po' Siamo che stavo resistendo Il cavalletto Quindi il computer Con Pazzoletti non so perché Coperti Computer coperto Quindi qua abbiamo La linea Wifi Che possiamo vedere dall'altra camera Abbiamo il telefono di casa Altro spine varie Abbiamo una sedia Abbiamo Le scale La porta Abbiamo questo per Dipingere la casa Tutto qua Abbiamo un mobile Che lì potete vedermi Perché sto registrando in questo momento Con Con il G3 Solo oggi ho registrato il G3 Ciao Però quando ho registrato qua Ho registrato con il Lago Pro Quindi Abbiamo Qui Abbiamo Non so come si chiama Quindi Abbiamo L'acqua Quindi acqua Poi abbiamo questo Che serve a dipingere molto Cioè Che dovete Salire Vi dovete Rambigare Rambigare E andare Qui Qui sopra Come si chiama questo? Ruma Ruma Non so Poi Abbiamo un grande Sert Poi abbiamo Le cuffie vecchie Le cuffie del G3 Buttate a cazzo Cioè Una ceneriera Due ceneriera Non so che cos'è Perché è andata la luce Non so cos'è Vabbè Un altro mobile Un accendino Cioè Troviamo Un accendino Funzionabile Pure Pure funzionabile Uii Quindi pure funzionabile La posiamo Dove la prima E chiudiamo Cioè Questa è tutta Lì ci sono Dei buchi Perché deve passare L'aria Questa è Tuuuutta La sala Da pranzo Come potete vedere Che cosa si fa Che cosa si fa Che cosa si fa Pazzo D'alzi Ok ok ragazzi questo video vi sia piaciuto ci metterò un botto a editare questa cosa quindi noi ci vediamo alla prossima con me con me è la casa bella ragazzi